Il Man di Napoli e gli scavi di Pompei, sempre più vicini, è stato presentato nella sala del Toro Farnese del Museo Archeologico Partenopeo il doppio programma di eventi espositivi realizzato congiuntamente dalle due istituzioni culturali. Si tratta di Pompei e i Greci, in programma dal 12 aprile al 27 novembre, e Amori Divini dal 7 giugno al 16 ottobre. Un progetto di condivisione e di rete tra siti nazionali ed internazionali, come sottolinea Paolo Giulierini, direttore del Man. Riteniamo che la collaborazione tra il Museo Archeologico Nazionale di Napoli e la sopredendenza speciale di Pompei sia un atto doveroso e assolutamente innovativo. Sono oramai due anni che collaboriamo, abbiamo pensato ad un programma pluriennale che lega Napoli e Pompei attraverso le grandi civiltà. Siamo partiti l'anno scorso con gli Egizi, quest'anno affronteremo il tema dei Greci, termineremo l'anno prossimo con il tema degli Etruschi. Una scelta vincente, visto anche il grande numero di turisti sempre più presente nei siti archeologici e museali. Questo è il pensiero di Massimo Osanna, direttore generale della sovrintendenza di Pompei. A fine anno potremo chiudere quasi sfiorando i 4 milioni, se la tendenza è questa, e quindi bisogna anche adeguarsi a questa nuova richiesta con un ventaglio di offerte sempre più ampio. E proprio per questo l'accordo con Napoli è fondamentale e il coordinare le attività comuni è fondamentale. Non si può più pensare a mostre che ognuno fa per conto suo o mostre che ci propongono dall'estero senza un imprinting forte delle nostre istituzioni. E stiamo lavorando proprio per questo.